Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. Questa sera diciamo una parola un po' difficile da pronunciare ma anche molto nuova. Parliamo infatti di reaction. Che cos'è la reaction? Reaction è la possibilità, offerta per il momento soltanto da Facebook, di esprimere una reazione emotiva ai contenuti pubblicati da qualcun altro. Quindi è una reazione, un commento. Allora, voi sapete che quando aprite Facebook quello che vedete nella prima pagina si chiama la bacheca. Nella bacheca ci sono dei contenuti pubblicati dai vostri amici, ci sono dei contenuti pubblicati dalle pagine dei quali siete fan, poi ci sono dei contenuti dei gruppi ai quali appartenete. Se appartenete al gruppo della trippa verrà fuori la ricetta della trippa. E poi ci sono le pubblicità, quei contenuti con scritto sotto piccolo sponsorizzato. Tra l'altro vi dico che quei contenuti non sono tutti quelli che tutti gli altri pubblicano perché sarebbe impossibile. Ormai abbiamo tutti così tanti amici e tante pagine alle quali siamo iscritte che la scelta di quali contenuti ci vengono mostrati viene fatta da un algoritmo di Facebook, algoritmo segretissimo. Comunque noi apriamo Facebook e vediamo delle cose, delle immagini, dei video, dei commenti, delle opinioni. Fino a poco tempo fa, oltre al condividere, al commentare, si poteva fare solo il mi piace, il like. Ne abbiamo parlato nel corso di una precedente parolaccia. Allora, il like nel tempo è stato un po' anacquato. Non dico che un like non si nega nessuno, però un like ha quasi il significato del visto non dispiaciuto, non è proprio un piacere. Allora, molto recentemente Facebook, probabilmente accorgendosi che c'era bisogno di coinvolgere di più gli utenti, di dare più possibilità, ha introdotto queste reactions, che sono le reazioni. E cioè una serie di possibili risposte. E adesso andremo a vedere quali sono. Allora, innanzitutto, per trovare queste reactions, voi dovete andare con il mouse sopra il mi piace o col dito, se avete uno touchscreen. Tenendo premuto, si apre una finestrella con delle icone, delle faccine. E quali sono? Allora, prima di tutto c'è il love, il cuoricino love. Ci può essere qualcosa che non è un semplice mi piace. Ogni tanto c'è qualcosa che proprio ci strappa tenerezza e amore. Uno celebra 50 anni di matrimonio e mettiamogli almeno un cuoricino, vuoi mica dargli un normale mi piace. Poi c'è una faccia stupita con gli occhi così, che è il wow, cioè stupore. Dice, sono salita in cima a Montebianco. E uno mette wow, non è mica solo un mi piace qualunque con la fatica che ho fatto. Poi c'è un sig, una faccia triste, una faccia triste. E qualche volta mettiamo la faccia triste. Se qualcuno dice che è successo qualcosa di spiacevole, vogliamo mica solo dire mi piace, sembra dire che mi piace che gli è successo qualcosa di brutto. Ma gli posso mettere un sig. Poi c'è una bella faccia, ilare, è una risata. Ha ha, c'è scritto, è una risata. A volte uno mette una barzelletta, una battuta, qualcosa di veramente divertente, che non è solo un like, mi ha fatto ridere. C'è anche una faccia che fa lo stupore, con la bocca aperta e gli occhi spalancati, che vuol dire wow, vuol dire stupore. E infine ce n'è una, l'ultima a destra, che è una faccia tutta rossa, tutta arrabbiata, che ha il significato di grrrr, quello vuol dire rabbia. E tenete conto che nel mondo così tutto aggraziato e politicamente corretto, questa rabbia non è mai la rabbia diretta verso la persona che ha pubblicato, ma normalmente è una rabbia di tipo empatico, cioè quello che tu dici fa arrabbiare anche me. Diciamo questo è il senso della reazione. Tenete anche conto che non esiste un tasto non mi piace. Cioè si tende a non mettere quale cose che non piacciono perché potrebbero scoraggiare chi pubblica dal mettere contenuti. E questa è l'ultima cosa che vuol fare Facebook, che vogliono fare in genere social network, perché tutto il gioco è di stimolare le persone a pubblicare e a creare quello che si chiama il marketing virale. Cioè tu pubblico qualcosa, a me piace, io dico che mi piace, lo condivido, lo faccio conoscere a qualcun altro, è l'industrializzazione del passaparola. Quindi tutti i meccanismi che aiutano a essere coinvolti, a essere parte del gioco, vengono sempre arricchiti e perfezionati proprio perché questo è quello che interessa, automatizzare il passaparola per poter fare più pubblicità e aumentare il volano informativo su questi canali. Comunque con questo spero che mi diate almeno un like, non dico un love, ma almeno un like a questa puntata di Maledetta Informatica. Vi ringrazio e vi saluto, alla prossima parolaccia.